Salve a tutti, oggi vi parlerò delle fallace logiche. Accennandovi anche agli schemi logici principali. Come dicevo nel video precedente le fallace sono errori di ragionamento, che però sembrano ragionamenti corretti. La parola fallace deriva dal latino fallere che significa ingannare. Non è se inganniamo sia se stessi e sia il prossimo, consapevolmente e inconsapevolmente. Per rendere le cose più semplici ho diviso le fallace in alcune categorie, anche perché non esiste nessuna classificazione ufficiale. Le prime che andremo a vedere sono le fallaci di pertinenza, in latino vengono chiamate ignorati o elenchi. Non sono fallaci formali, per cui non c'è bisogno di conoscere bene la logica formale. Anzi, sono al limite tra essere argomentazioni ed essere strategie di retorica con cui sviare la discussione o cambiare argomento. Per questo si chiamano fallaci di pertinenza. In termini più tecnici, non seguito in latino significa non segui e, cioè la conclusione non segue dalle premesse. In pratica si cerca di dimostrare qualcos'altro al posto della tesi di partenza. Ne esistono vari tipi e mi concentrerò soprattutto su questo tipo di fallace. Perché sono molto usate, e sono dei tentativi di discutere senza nemmeno argomentare in senso stretto. L'uomo di paglia è un tipo di fallace di pertinenza. Invece di dimostrare che è falsa una tesi, si dimostra che è falsa un'altra tesi, simile in apparenza, ma più semplice da demolire. Esempio, dimostrare che il darwinismo è sbagliato al posto del neo-darwinismo, più aggiornato e moderno, oppure che lo stalinismo è sbagliato e non il marcosismo. Spesso si usa insieme la fallacia della falsa analogia. Esempio, se è giusto che due gai si sposino è anche giusto che io sposi il mio cane e che adotti cuccioli di gatto. La differenza tra uomo di paglia e falsa analogia sta nel fatto che l'uomo di paglia consiste nel costruire in modo artefatto e più debole l'argomentazione dell'avversario.